I mutati equilibri geopolitici richiedono di tracciare nuove rotte per gli approvvigionamenti energetici. È stata questa la considerazione che ha guidato il workshop annuale dell'osservatorio a GC Accenture sulle utilities, giunto alla sua 22esima edizione. La giornata, dal titolo il nuovo mercato italiano delle utilities, equilibri geopolitici, sostenibilità, ruolo del PNRR, si è svolta il 5 maggio a Palazzo Clerici a Milano. I manager delle società energetiche si sono confrontati in due tavole rotonde in cui sono state approfondite le strategie delle imprese e le novità del mercato energetico in Italia. È emersa in modo chiaro la fragilità del sistema energetico italiano che è stata messa a nudo dalla recente guerra tra Russia e Ucraina. Questo fatto drammatico ha cambiato il quadro generale e ha avviato un ripensamento delle strategie energetiche sia a livello nazionale, intendo di politica, sia a livello di strategia aziendale. Nel corso dell'evento è stato anche presentato lo studio Accenture-GICI in cui sono state analizzate le modalità attraverso le quali l'Italia può ridurre la dipendenza dal gas, in particolare dal gas russo, e quali iniziative possono essere messe in campo. Abbiamo creato due scenari, uno che abbiamo chiamato Progressive Growth e uno Green Acceleration, ma riteniamo che sia fattibile e utile andare verso lo scenario accelerato. Perché? Perché lo scenario accelerato consente di ridurre più rapidamente la dipendenza dal gas russo, perché consente di diminuire significativamente la dipendenza dal gas in generale, stiamo parlando di 190 miliardi di metri cubi a 20-30, e perché consente un risparmio in termini di CO2 estremamente superiore. Al termine dei lavori sono stati poi assegnati i premi Manager Utilities Andrea Gilardoni, da parte della rivista Management delle Utilities e delle Infrastrutture. Per la categoria Energia è stato premiato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. Per la categoria Servizi pubblici locali è stato scelto Gianni Armani, amministratore delegato di IREN, mentre un riconoscimento speciale è stato conferito ad Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato del gruppo CAP.